black friday black friday grandi super sconti a destra e a manca e tu come simonelli editore con i tuoi ebook perché non hai fatto il black friday qualcuno mi contesta via email ma come non l'ho fatto lo sto facendo sempre tutti i giorni guardate i prezzi degli ebook simonelli editore valutateli e forse giungerete alla conclusione che ho proprio ragione gli ebook simonelli editore hanno dei prezzi da black friday sempre tutto l'anno a